Lo sport come costruttore di pace. È un po' questo l'impegno della WISP, che è l'Unione Italiana Sport per Tutti. Ed è al telefono con noi Marco Ceccantini, presidente dell'Unione Italia Sport per Tutti Comitato di Firenze, a capo delle manifestazioni nazionali dell'Unione stessa. Ben trovato su RWS, Marco. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di RWS. Con lei vogliamo parlare di una manifestazione che davvero è alle porte. Oggi è la vigilia. Ci stiamo riferendo a Vivi Città. Di cosa si tratta nel dettaglio? Vivi Città giunge alla 37esima edizione, nasce nel 1984 e si è sempre proposta come la corsa della pace. Tant'è che si è corso in scenari di guerra tipo Sarajevo, tipo Beirut o Baghdad nel 2000. E quindi si pone come una manifestazione sportiva in favore della pace, cercando di far partecipare tutti e tutti con l'intento di promuovere la pace tra i popoli. Stiamo purtroppo vivendo un momento molto difficile in cui l'attenzione mediatica è puntata su quanto sta succedendo in Ucraina. Senza dimenticarci chiaramente tutti gli altri conflitti che sono in corso nel mondo. Ecco, lo sport in questo senso cosa può rappresentare, quale contributo può dare in termini costruttivi? Lo sport è un grandissimo veicolo portatore di sani valori che fa dimenticare anche in alcuni momenti la tragedia delle guerre come in questo momento stiamo vivendo. Ricordiamoci che già dall'antica Grecia al momento delle Olimpiadi era il momento in cui fra Sparta e Atene si smettevano le guerre e si partecipava ai giochi olimpici. Quindi credo che lo sport possa incarnare veramente questo motore, appunto sostenere attraverso la pratica sportiva e gli atleti che vi concorrono a portare un momento di serenità che si spera poi non sia un momento ma che si protagga nel tempo. E si iscrive in questo quadro un'altra iniziativa alla quale avete aderito che si chiama Sport Against War, cioè sport contro la guerra con un hashtag, il famoso cancelletto che si usa sui canali social. In cosa consiste questo impegno? Sì, noi ci siamo mobilitati con la campagna Sport Against War che è promossa insieme ad Amnesty International, ad Usigrai, ad Assist, a Sport for Society e si può unirsi al gruppo Facebook che abbiamo lanciato. Questo è un modo per condividere contenuti che in qualche maniera si fanno promosso di pace. Infatti pensiamo nello sport di Brase, ben si attaglia per lanciare messaggi di pace. E tutte le nostre iniziative di questo periodo, di questa primavera, in primavera generalmente cominciano le grandi manifestazioni della WISP, saranno tutte targate con questo slogan e tutte riporteranno i colori della pace. Tant'è che, le donate prima, tutti i nostri loghi riferiti alle grandi manifestazioni, quindi Bicin Città prima, Bicin Città poi e tutte le altre che seguireanno, Giohajin, avranno i colori della pace all'interno del logo della manifestazione. Abbiamo parlato di pace, senza dimenticare però che siamo ancora dentro a una pandemia. Ecco, com'è influito il Covid nello sport e nelle vostre attività? Sì, praticamente per due anni non ci sono state manifestazioni perché non erano consentite e poi forse non era neanche opportuno organizzare momenti di grandi afflussi di persone. Ma notiamo che c'è una grandissima voglia da parte di tutti i comitati della WISP esparsi per l'Italia e con l'adesione a Bicin Città abbiamo notato proprio questo. C'è una grandissima voglia di ripartire e di voler fare. Tant'è che in questo periodo, dove ancora non è così semplice organizzare un evento con grandi numeri, ci sono state tantissime adesioni da Aosta fino a Trapani. Tutta l'Italia sarà percorsa dai votisti di Bicin Città. E in questa trentasettesima edizione mi piace anche ricordare che oltre a svolgersi in trenta città italiane il 3 aprile, si svolgerà anche a Ginevra, a Parisi, a Saint-Denis, a Porto, a Ivry, a Vitry, a Sarajevo e a Tuzla, in Bosnia e Zegovina. Si correrà anche a Suceava, in Romania, che è una città di centomila abitanti circa al conflitto con l'Ucraina ed è uno dei maggiori centri di accoglienza dei profughi che fuggono dalla guerra in Ucraina. E tra l'altro una delegazione WISP è in partenza per portare aiuti a organizzare la corsa con l'associazione locale e l'associazione sportiva del territorio. E rimandiamo allora al sito webwisp.it. Un grazie a Marco Cecantini per essere stato qui con noi su RWS. Grazie a voi per l'attenzione. Grazie a voi.